Abbiamo detto che il primo passo per creare nuove abitudini per gestire più efficacemente le attività nel tempo, dopo il cominciare a conoscersi bene, è quello di creare obiettivi efficaci. Per creare obiettivi efficaci possiamo usare la tecnica SMART. Questo acronimo inglese ci aiuta a ricordare facilmente quale caratteristiche deve avere un obiettivo per essere definito tale. Per capire come costruire un obiettivo SMART partiamo da uno che non lo è e rendiamolo tale. Voglio iniziare a fare un po' di movimento. Questo non è un obiettivo SMART. Rendiamolo specifico. Deve essere definito, non generico. Deve essere chiaro il cosa e il come sono oggetto dell'obiettivo. Voglio iniziare ad andare in palestra. Misurabile. Un obiettivo deve essere misurabile. Voglio iniziare ad andare in palestra per perdere 5 kg in una settimana e aumentare la massa muscolare. Achievable. Raggiungibile. Un obiettivo è tale quando è raggiungibile, altrimenti diventa un obiettivo impossibile e genera solo grande frustrazione. Ridimensioniamo un po' il nostro obiettivo. Voglio iniziare ad andare in palestra per perdere 5 kg in 5 mesi e aumentare la massa muscolare. Rilevante. Gli obiettivi devono avere una rilevanza per noi stessi ed essere compatibile con l'ambiente che ci circonda e gli altri nostri obiettivi. In questo caso, l'obiettivo diventa rilevante in maniera chiara se aggiungiamo il perché. Voglio iniziare ad andare in palestra per perdere 5 kg in 5 mesi e aumentare la massa muscolare per sentirmi più in forma e quindi più bella. Time-based. Temporizzabile. Un buon obiettivo ha una scadenza e qui ci avviciniamo al nostro tema. Nel caso dell'obiettivo su cui stiamo lavorando, non si specifica quando comincia l'obiettivo. Inizio ad andare in palestra tra 15 giorni per perdere 5 kg in 5 mesi e aumentare la massa muscolare per sentirmi più in forma e quindi più bella. Ci andrò due volte a settimana. Questo è un obiettivo ben formato o un obiettivo smart. Importante ricordare anche che un obiettivo, per essere raggiungibile e specifico, deve essere sotto il tuo controllo. Quindi il suo raggiungimento non può dipendere in massima parte dalla volontà altrui. E deve essere espresso in modo positivo. Non voglio stare ancora ferma. È diverso da voglio fare movimento. Ora che abbiamo capito come si formano gli obiettivi, abbiamo la chiave per riflettere su quelli che sono gli obiettivi della nostra vita, nel breve e nel lungo termine. Quello che vedremo ora è che, per organizzare bene il mio tempo, devo tenere sempre a mente i miei obiettivi e gestire le priorità in base a questi. Concretizziamo al massimo il rapporto attività-obiettivi. Per una settimana, registra su un foglio o su un supporto digitale tutto quello che fai, dallo svegliarti al mattino fino ad andare a letto la sera, segnando l'orario e il tempo impiegato per ogni attività. Deve essere uno sforzo costante, il più possibile non mnemonico, cioè ad ogni azione registriamo ciò che facciamo anziché provare a ricordarsi cosa si è fatto solo a fine giornata. Se hai uno smartphone di nuova generazione, puoi aiutarti con gli strumenti che memorizzano il tempo impiegato nell'uso delle applicazioni, come l'email, i social network o YouTube. Infatti sembrerà eccessivo, ma un forte consiglio è quello di verificare quanto tempo passi sulle app del telefono ogni giorno. Qui puoi vedere un esempio di registrazione delle attività quotidiane. Se ti è possibile, ti consigliamo di sospendere il corso e proseguirlo quando avrai compilato la tua lista di attività, altrimenti prosegui per vedere cosa fare dopo. Finita la registrazione delle attività, prenditi del tempo per scrivere, accanto ad ogni azione, l'obiettivo che cerchi di perseguire facendo l'azione stessa. Qui puoi leggere un esempio di schema attività-obiettivi. Queste stesse attività potrebbero avere obiettivi molto diversi. Come nell'esempio, fare una pausa caffè con i colleghi potrebbe avere come obiettivo quello di godersi la loro compagnia. In quest'altro, invece, l'obiettivo è dare l'immagine di una persona socievole per il quieto vivere. Non c'è giusto o sbagliato, dipende solo da te. Lascia poi passare un po' di tempo, fai sedimentare e poi riprendi in mano la tua lista. Cerca di capire se gli obiettivi che hai scritto sono smart. Chiediti se sei stato sincero con te stesso. Davanti avrai il quadro realistico delle tue giornate, una fotografia della tua gestione del tempo. Da qui puoi cominciare a lavorare sui cambiamenti da attuare, su quale attività e quindi su quali obiettivi togliere o aggiungere tempo, quali attività eliminare, quali potresti posticipare e quali invece delegare anziché farle direttamente. Su queste quattro possibilità faremo un approfondimento nella prossima lezione, che ti aiuterà a organizzare al meglio le tue attività. In questa lezione abbiamo visto quanto sono importanti gli obiettivi ben formati e come possono regalarci la chiave per gestire al meglio il tempo. Ora vediamo le tecniche pratiche di gestione delle attività.